Ciao cari amici e cari amiche, gli studenti e le studentesse del terzo anno superiore. Oggi facciamo un ripasso finale per l'esame. Conosciamo insieme come possiamo rispondere alle diverse domande correttamente. Vediamo insieme! Ora parliamo di un tipo delle domande dell'esame. Con il titolo, leggi il testo e rispondi alle domande. Vediamo insieme come possiamo rispondere a questa domanda. Con due compagni di classe abbiamo partecipato ad un concorso di scienza della nostra scuola. Abbiamo inventato un nuovo robot. Il robot sa parlare l'italiano e l'abbiamo chiamato tutti, come il nome del nostro giocatore preferito di calcio. Lui ha molte funzioni. Può fare domande, pulire, mettere in ordine i libri in biblioteca e anche cantare. Tutti ci dicono auguri! Il vostro progetto è molto divertente e utile e sarete le stelle della scuola di quest'anno. Le persone che hanno partecipato a questo concorso sono due, tre, quattro. Hanno l'hoxs filo quattro, ho il io e Marco con altri due compagni di classe. Giva l'aggeba quattro. Come si chiama il robot? Marco, Paolo, Totti Il l'aggeba, Totti Che lingua parla il robot? L'italiano, l'inglese, il francese L'italiano Marco abita in via Petrarca vicino a scuola fuori città Il progetto è piaciuto a tutti è piaciuto solo a Marco non è piaciuto a nessuno Il l'aggeba è piaciuto a tutti Leggi il test seguente Ieri il professore della nostra classe ha parlato dei progetti extrascolastici di quest'anno La classe è divisa in quattro gruppi Il primo gruppo ha scelto il progetto di educazione ambientale per pulire le strade e un grande giardino del quartiere Il secondo gruppo ha preferito fare il gemellaggio con una scuola straniera a Parigi Al terzo gruppo è piaciuto molto partecipare ad un concorso musicale e cantare canzoni di cantanti famosi come Tiziano Ferro e Laura Pausini L'ultimo gruppo ha deciso di fare partite di pallavolo con altre tre scuole delle città Gli studenti erano tutti entusiasti di questi progetti interessanti Scegli la risposta adatta In quanti gruppi è divisa la classe? Tre gruppi Due gruppi Quattro gruppi Elegeva quattro gruppi Al quarto gruppo è piaciuto fare partite di pallavolo pulire le strade e il gemellaggio con una scuola straniera Davan Il quarto gruppo è l'ultimo gruppo L'ultimo gruppo è fare partite di pallavolo C'è un gruppo che fa il gemellaggio con una scuola italiana, spagnola, francese L'Egeva è nel gemellaggio con una scuola a Parigi L'Egeva francese Il gruppo dell'educazione ambientale Gioca a pallavolo Pulisce le strade del quartiere Partecipa a un concorso musicale L'Egeva pulisce le strade del quartiere Il terzo gruppo canta canzoni Solo di Laura Pausini Solo di Tiziano Ferro Di Tiziano Ferro, Laura Pausini e altri Rai di Tiziano Ferro, Laura Pausini e altri Rai di Tiziano Ferro, Laura Pausini e altri I progetti extrascolastici sono piaciuti a Molti studenti Pochi studenti Tutti gli studenti Leggi il testo Il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo Gli italiani sono considerati un popolo elegante E sono molto attenti alla moda Ai giovani italiani piacciono molto abiti di note marche alla moda Molti ragazzi preferiscono fare spese nei centri commerciali Che si considerano insieme alle piazze un punto di incontro Gli altri ci vanno non solo per fare acquesti ma anche per girare, per mangiare e per vedere gente A loro piace fare spese nei periodi dei saldi per risparmiare un sacco di soldi Ma l'unico fatto negativo nei periodi dei saldi è che a volte non si trova la taglia o il clore Molti giovani preferiscono gli abbigliamenti dei famosi stilesti italiani Gucci, Fersacci, Prada e Armani Dite se le seguenti frasi sono vere o false Le piazze e i centri commerciali sono un punto di incontro vero Nei periodi dei saldi si spende tanti soldi La chudbellna, min tanti bmanakassir, i belli gheba, falso Il popolo italiano segue molto la moda? Vero Gucci e Fersacci sono famosi attori italiani I giovani apprezzano le marche degli stilisti famosi? Vero. Leggi la seguente e-mail. Ciao mamma! Molta gente preferisce vivere in città, forse perché è più divertente e ci sono più possibilità di lavoro. Le persone nati in Campania e vivono in città per il lavoro aspettano il fine settimana per sedersi all'ombra di un albero in mezzo al verde. A me piace vivere in Campania dove la natura è bella e la vita è sana. Paci, Sara. Dite se è vero o falso. La figlia preferisce la vita in Campania? Vero. La città è più tranquilla della Campania? Più di ogni octor min. Il egeba? Falso. In Campania ci sono tante possibilità di lavoro? Falso. Cosa si dice nelle seguenti situazioni? Cosa dico quando chiedo qualcosa in prestito? Mi dispiace, ma non ti posso aiutare? Mi presti il tuo libro? Senti, puoi farmi un favore? Il egeba? Mi presti il tuo libro? Cosa dico quando esprimo un parere? Mi presti il tuo pallone? Senti, puoi farmi un favore? Quel che dice non mi sembra logico. Il egeba? Quel che dice non mi sembra logico. Cosa dico quando chiedo un favore? Senti, puoi farmi un favore? Quel che dice non mi sembra logico. Mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Il egeba? Il egeba, senti, puoi farmi un favore? Per fare previsioni dico. Da domani non farò tardi. Diventerai un bravo avvocato. Quest'anno parteciperò a un concorso musicale. Il egeba diventerai un bravo avvocato. Quando si dicono le seguenti situazioni? Dico, mannaggia, quando? Dimentico di caricare il mio cellulare? Compro un cellulare nuovo? Cambio il mio cellulare? Dimentico di caricare il mio cellulare? Dico è un po' stretto quando? Parlo della taglia? Parlo del colore? Parlo del prezzo? Parlo della taglia? Dico che è brutta notizia quando una mia amica Ha vinto un concorso musicale? Ha perso il suo libro? Ha comprato il fumetto che cercava da tempo? Il egeba ha perso il suo libro? Dico che è bella notizia quando? Ho comprato la maglietta che cercavo da tempo? Ho perso un suo libro? Non posso andare al cinema con voi? Il egeba ha comprato la maglietta che cercavo da tempo? C'è lì la risposta corretta tra i parentesi. C'è un poster il letto. Vicino? Lontano? Sopra? Vicino? Bteghut harfi il garra A? Lontano bteghut harfi il garra DA? C'è un poster? Lo è ordiato? Quanta pizza? I ordinato? Tre pezzi? N'o ordinato? Li'o ordinati? N'o ordinati? N'o ordinati? N'o ordinati? N'o ordinati? N'o ordinati? Giulia ed io spesi ogni domenica. Abbiamo fatto, facciamo, avremo fatto. Ogni domenica, quel mit onni, quel medalla alasaman e il presente, i belli e gheba, facciamo. Hai invitato tutti gli amici di Marco? Sì, tutti. Li ho invitati, ne ho invitati, lo invitato. Cلمة tutti, ma n'infoci a istiqdim ma'aiha nei. Lì bella l'agabe, li ho invitati. Fratellino passa le vacanze a Roma. Tuo, il mio, suo. Lui la chißna c'è la chißna c'è l'info, c'è la chißna c'è la chißna. Fuihè m'a quattro ino, l'attedlil, yybacca sifat il m'infoci a la chißna. E' ma'aihi ha la chißna. E' ma'hi ha, l'agabe, l'agabe, il mio. Le prove le abbiamo fatte. Appena un po' di soldi camperò il cellulare. Avrò, ho avuto, avrò avuto. Tavano appena nel che le mette le peddolle al futuro composto. Avrò avuto. Il, lo, la. L'agrabe la. Della armadio cialletto. A destra, dentro, accanto. L'agrabe la. L'agrabe la. L'agrabe la. L'agrabe la. A destra. Vado in campania pair. Divertirsi. Divertirmi. Divertirci. Vado, arido al io. Divertirmi. Sarà la gara finale, sarà la scuola La scuola è la macchina L'abbiamo chiamato un film con Orlando Bloom Mi diverto, si diverte, ti diverti Guardo ai dalle io, i belli e gebe, mi diverto I piatti regionali molto ai genitori Piace, è piaciuto, piacciono I piatti regionali di Kelma Gamma, i belli e gebe, piacciono I ragazzi devono, prima di tutto, le prove Cominciano Cominciamo Cominciare Devono, verbo modale, i belli e gebe, all'infinito, felmozdur I belli e gebe, cominciare Stefania incontra me e Paolo E chiede come state Li, vi, ci Me e Paolo, seui noi, i belli e gebe, ci Do fastidio se apro la finestra Ti, me, te L'e gebe, ti Avete visto i film di Bloom? Sì, l'abbiamo visti Lo Li Li L'pipi, l'hova visti, akhruo, harfi l'i Yibane, lezim, akhruo, li Se non camminiamo più veloce L'autobus Perderemo Perderete Perderanno Perderemo, ai da' alla noi Perderete, alla voi Perderanno, alla loro Togba, all'olahizna, camminiamo Filsso Al-aida, alla noi Iba, l'agabe Perderemo Secondo me, la festa di domani non bella Sarò Sarai Sarà L'estate Rispondi Al-seguente SMS Ciao Chiara Perchè vuoi scegliere il progetto di educazione ambientale? Quando cominciamo? Sai che progetto hanno scelto gli altri amici? Il soele l'awal'andi Perchè vuoi scegliere il progetto di educazione ambientale? Hageweb Voi Hattet Hauwile Voglio Fahaul Voglio scegliere il progetto di educazione ambientale? Perchè è molto interessante Au Per pulire il nostro giardino Quando cominciamo? Quando بتisgal عن zaman? Au عن tawait Cominciamo mitzirafo ma' noi? Fa misch hato t'gayar? Fahaul Cominciamo dopo tre giorni? Au domani Sai Che progetto hanno scelto gli altri amici? Sì Gli altri amici hanno scelto il gemellaggio Ciao Dino Cosa cantiamo al concorso? Dove facciamo le prove? E quando le cominciamo? Cosa cantiamo al concorso? Cantiamo una canzone sull'ambiente? Au Cantiamo una canzone di Ligabue? Dove facciamo le prove? Facciamo le prove alla casa dei miei? Au In Campania? Au Alla casa di Alessia? E quando le cominciamo? Le cominciamo? Au Le cominceremo Domani La settimana prossima Tra tre giorni Scrivi sette frasi Da 25 a 30 parole Sciliendo Uno dei due seguenti temi E usando le parole date E progetti Gruppo, musica, proteggere, concorso, chitarra, interessante. Ogni anno scolastico, io ed i miei amici partecipiamo ai progetti extracurriculari a scuola. Quest'anno ci sono tanti progetti extrascolastici come Il mio progetto preferito è l'ecologia per proteggere l'ambiente. È un progetto molto interessante e divertente. Amo anche la musica e mi piace formare un gruppo musicale. Io suono la chitarra. La mia amica suona la tastiera. Il mio amico ha una voce molto bella. Mi piace molto partecipare a questi progetti con i miei amici e con la mia scuola. Dino scrivi un' email al suo amico Paolo per parlarli del suo stile preferito di vestirsi. E' un negozio di abilamento. E' un negozio di vestirsi. 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 elegante. Anche preferisco portare jeans e scarpe sportive. Il mio stile preferito è lo stile sportivo. Io amo gli abiti di note marche. Preferisco andare a fare spese nei periodi dei saldi per non bagare molto. Oggi vado con gli amici per comprare una maglietta nera e un paio di scarpe sportive. La commessa è molto gentile con noi e ci aiuta a trovare il numero delle scarpe e la taglia della maglietta. La maglietta e le scarpe costano poco. Dino. Il modo del tale tanti? L'ambiente preferito? In quale ambiente ti piace vivere? Città, vivere, tranquillo, campania, alberi. Fare, sano, inquinamento, negozio, in mezzo a. Mi piace vivere in mezzo al verde, perciò il mio ambiente preferito è la campania. In campania sono lontano dall'inquinamento della città. In campania la vita è tranquilla e l'aria è pulita. E ci sono anche molti alberi. Quest'aria fa bene alla salute. in campania trovo anche cipi sani e freschi. Invece la mia amica preferisce la città. In città ci sono molte possibilità, come il cinema, tanti negozi e centri commerciali. grazie per il vostro ascolto e la vostra attenzione. Vi auguro tutto il bene, tutto il successo e per tutta la buona fortuna. In bocca al lupo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!